ciao a tutti vi presento questo nuovo galleggiante di casa colmich orion caratteristiche deriva in carbonio antenne in fibra di vetro lo trovate nei migliori store colmich da 0,30 a 3 grammi galleggiante nato per la pesca delle brem avendo questa antenna in fibra verniciata e molto visibile per acque lente o medio veloci galleggiante molto sensibile ma anche molto robusto